Ragazzuoli, ciao ragazzuoli, vabbè, ragazzuoli, ciao, sono Kingsley, e vabbè, questo si era capito, no? Vi faccio una domanda, vi incazzerete se solo martedì mattina faccio la live? Vi spiego, questo sarà un video aggiornamento che dura pochissimo, pochi minuti. Allora, domani mattina mi sveglierò presto alle 4 per fare vari video, tra cui episodi di What If Game, altri episodi di Fortnite e altri vlog che porterò nel mese di gennaio dove io non ci sarò, ok? Quindi non andrò né in live su Twitch, ma sul canale YouTube vi farò trovare i video, scusate, guardo lì per vedere delle robe. Dopodiché, ragazzi, lunedì, quindi domani, questo lo vedete il video domani, no, lo vedete stasera, però domani, vabbè, lasciate perdere, sono un po' non incoglionito. Sarò uncut questo video, quindi non lo taglierò. Domani mattina mi sveglio presto, faccio i video, faccio la live, dopodiché pomeriggio faccio i video, dopodiché la sera faccio la live, dopodiché martedì mattina io farò l'ultima live presto di mattina. E devo fare anche altri video, sempre svegliandomi alle 4. Quindi signori, da martedì, questo in poi, non farò più live. Quindi tenetevi pronti, preparatevi, perché io per un po' non ci sarò. Per un mese, no, per un mese e una settimana, va là. Non vi preoccupate, sto preparando i video, ho già fatto adesso i vlog di Capodanno, gloriosi propositi, non vi preoccupate. Questo sarà un video breve, perché, per aggiornarvi, ok? Io in questo momento ho finito di scaricare la roba da PC per mandarla sul telefono per Fortnite che esce il 7 gennaio. Poi domani mattina devo fare tre video di cui what if, what if, what if. Tre episodi mancanti di what if devo fare domani mattina e poi devo fare anche la live. Quindi sarà un po' tosta, sarà un po' tosta, però ce la faccio, ce la faccio, non vi preoccupate. Detto questo ragazzi, io vi saluto, buon Natale, buona vigilia di Natale, buon Capodanno e buone feste. Metterevi alla salute. E per ultimo, vi ricordo di seguirmi su Instagram, su YouTube e su Twitch come Kingslave Corporation, nuova pagina di Instagram, Kingslave18, qui sotto trovate il link per donarmi. Fatemi il regalo di Natale, per favore. Anche se il regalo di Natale e io vi ringrazio ancora, me lo starei facendo, sopportandomi su Twitch e su YouTube, vi ringrazio ancora. Detto questo, io vi saluto, ciao cari!